Buongiorno a tutti sempre pronti, si va ai quarti di Coppa Italia, prestazione più che convincente 4-1 senza storia al Cagliari e sempre super Lukaku con quella maglia lì appesa che continua a fare la differenza anche se quello che mi chiedevo io forse anche voi ieri e alla fine gioca sempre lui e avrebbe sicuramente bisogno di tirare un po' il fiato, ieri l'ha fatto Lautaro Martizio invece Lukaku è rimasto in campo tutta la partita segnando la sua quinta doppietta stagionale e quindi ancora complimenti a chi l'ha portato in nerazzurro e sono 18 i gol di Romelu in questa stagione, 14 in campionato, 2 in Champions e 2 anche adesso in Coppa Italia con l'Inter che aspetta la vincente tra Atalanta e Fiorentina ai quarti di finale però ha dimostrato insomma che ci tiene e tanto a questo obiettivo stagionale alla Coppa Italia, l'ultimo trofeo vinto nel lontano 2011 e è stato anche positivo vedere le firme di Ranocchia e Borca Valero su questa vittoria quelli che hanno giocato di meno ma che quando sono stati chiamati in causa hanno sempre risposto più che presente ieri tra i migliori in campo, Pagelle le andiamo a snocciolare rapidamente per poi confrontarle con quelle e con i giornali ma ci sono importanti novità di calciomercato da trattare, 6 Andanovic incolpevole sul gol, 6 e mezzo per un Godin che migliora che continua a crescere come abbiamo visto anche nell'ultima gara con l'Atalanta sicuramente più che sufficiente il suo apporto 7 Ranocchia l'abbiamo detto dopo 4 mesi torna a titolare e segna anche il suo primo gol in stagione è sicuramente un professionista esemplare così come Borca Valero a cui diamo un altro 7 anche per la mobilità che sta facendo vedere, che ha dimostrato nelle ultime occasioni quando ha avuto possibilità di giocare anche dall'inizio non ha più quell'autonomia limitata che sembrava prima, ha proprio trovato la condizione e complimenti a lui e anche soprattutto a lui perché non è facile rimanere così ai margini dopo una vita da protagonisti e poi rispondere presente al bisogno per quanto riguarda gli esterni sono rimasto positivamente sorpreso dalla prova di Di Marco 6 e mezzo e può rappresentare un'alternativa anche se il mercato lo vede sempre più verso Verona poi è entrato al suo posto Biraghi che quasi ha sfiorato il gol su punizione 6 a destra Lazzaro, forse quello che mi ha convinto meno di tutta la serata 5 e mezzo, troppo timido, non salta neanche più l'uomo potrebbe sicuramente fare molto di più forse l'unico punto interrogativo dell'ultima campagna acquisti per quanto riguarda il centrocampo molto positivo Barella 6 e mezzo tendente al 7, abbiamo già detto 7 per Borca Valero anche Brozovic 6 e mezzo è stato nel primo tempo in campo con personalità in attacco si è rivisto Sanchez, la seconda da titolare per lui dopo quella di Genoa, belle giocate ancora lontano dalla condizione però sicuramente potrà tornare utile in questa stagione diamogli un 6 e mezzo e 8 a Romelu Lukaku poi è entrato Sebastiano Esposito 6 e mezzo un grandissimo numero, un assist di Taccono Luke con tunnel nel finale scusate che prendo posizione e poi anche 6 per Sensi Biraghi abbiamo già detto sufficiente la sua prova contro un Nainggolan l'abbiamo sentito a fine partita che ha chiarito ancora una volta la sua situazione ha detto che lui con Conte non ha nessun problema aveva parlato chiaro, è un uomo e Conte gli aveva parlato da uomo senza dicendogli tutto in faccia semmai è qui il rimbrotto di Nainggolan è qualcun altro che non si è comportato da tale e per rispondere alle tante domande che mi fate perché l'Inter non riprende Nainggolan l'ho chiesto direttamente a lui e lui ha detto è un po' complicato dopo terminare prima della scadenza un prestito annuale e quindi poi a fine stagione si vedrà con Nainggolan che ha ribadito che fa il tifo per l'Inter anche perché non vorrebbe vedere un altro successo della Juventus Conte in conferenza stampa a fine partita insomma ha ribadito invece che ci sono tante idee ma pochi soldi da investire quindi bisogna colmare questo gap diciamo finanziario con idee e anche velocità di movimenti per le occasioni che si presenteranno la prima che l'Inter ha chiuso si aspettano le visite mediche è questo scambio con la Roma a titolo definitivo cessione di Politano per l'acquisto di Spinazzola per andare a tappare quel buco sulla fascia sinistra che si è creato per le condizioni di Asamoah a fare definito Inter che realizzerà avendo a bilancio Politano per circa 18 milioni i due dovrebbero essere valutati 27 e mezzo quindi anche una robusta plus valenza per i nerazzurri minima per la Roma che dopo l'ammortamento parziale di questo inizio di stagione a bilancio Spinazzola per circa 26 milioni punto 5 un valore approssimativo vicino a questa cifra anche la Roma quindi metterebbe a bilancio una discreta plus valenza minima però comunque positiva col segno più e risparmierebbe metà dell'ingaggio di Spinazzola tutto fatto e quindi si va a colmare con Spinazzola tanti mi avete scritto che insomma ha sempre e spesso problemi fisici però ricordiamo anche le buone prestazioni soprattutto con la Juventus poche con la Roma quest'anno però sono convinto che poi lavorando con Conte potrebbe crescere ancora di più e anche sistemarsi dal punto di vista fisico Spinazzola quindi per la fascia sinistra rinforzo rimane congelato Young però dall'Inghilterra dicono sia sempre vicino all'Inter che da quello che ho capito sta lavorando però su un esterno su un nome che non è ancora uscito per rinforzare la sua rosa non c'era in panchina neanche Mattias Vessino questo è un indizio di mercato sulla sua possibile partenza l'Everton di Ancelotti Inter che ha provato e proverà ancora a rimetterlo nel pacchetto Eriksen anche se lo valuta più di 20 milioni qui sarebbe una diciamo una difficoltà a chiudere la trattativa resta in piedi anche se sullo sfondo questo scambio col Milan che sì che però insomma non è che convinca molto entrambe le società al momento con l'uscita di Politano si cercherà di chiudere velocemente entro fine settimana vedremo o inizio alla prossima per Giroud la differenza ormai col Chelsea è stata quasi limata rispetto alle richieste da 10 scese a 7 e progressivamente anche a 6 Inter che è salita a più di 5 quindi l'accordo ormai è un passo per il vice Lukaku mentre l'affare che però interessa un po' più tutti è quello che riguarda Eriksen atteso il suo agente per fare il punto della situazione per anche formulare la prima offerta ufficiale al Tottenham da 10 milioni 20 la richiesta Inter che però non può permettersi di giocare troppo con il tempo perché c'è anche sotto traccia il Paris Saint Germain che vuole provare un'offensiva per voltarsi subito il danese a Parigi e potrebbe fare un'offerta economicamente più valida sia al giocatore con cui c'è già un accordo per 10 milioni a stagione sia al Tottenham e quindi non bisogna perdere tempo e anzi sfruttare questa plusvalenza realizzata con Politano e la cessione di Gabigol che sembra sempre più vicina col Flamengo che potrebbe ritoccare leggermente quell'accordo da 18 milioni più 20% sulla futura rivendita e dare così all'Inter anche la possibilità di rinforzarsi subito con un grande colpo un colpo effetto uno dei migliori centrocampisti al mondo un giocatore che di livello così di questa qualità non si vedeva forse dai tempi di Snyder in casa neraazzurra non solo l'immediato perché comunque c'è stato un grande via vai in sede ieri per piazzare Radu dopo che il Genoa gli ha dato il ben servito acquistando Perin ma anche per rinforzarsi e qui ci sono stati due incontri importanti con l'agente di Kumbulla del Verona difensore centrale già leader la difesa 3 di Juric che piace molto e che l'Inter vuole portarsi a casa la prossima estate magari appunto dando come acconto il prestito di Di Marco e rinnovando quello di Salcedo e anche con l'agente di Amrabat che non vuole il Napoli nonostante l'accordo già raggiunto con la società di De Laurentiis preferirebbe l'Inter ma attenzione alla Fiorentina che in serata ha fatto un'offerta importante per una delle rivelazioni di questa Serie A stesso procuratore di Chong il talento olandese in scadenza di contratto con lo United esterno offensivo anche di lui si è parlato piace alla Juventus che ci sta lavorando da tempo però attenzione anche qui al doppio passo di Marotta che sta valutando come ha ribadito prima della partita di ieri tutte le opportunità migliori che ci saranno per rinforzare la squadra come chiede Conte per recuperare quei due punti dalla Juventus e cercare di insomma lottare fino alla fine per lo scudetto per la Coppa Italia per l'Europa League per cercare di tornare a vincere qualcosa di importante dopo 8 9 lunghi anni di astinenza in casa Inter andiamo a leggere i giornali cominciamo con il Corriere dello Sport che ormai è salito sul carro di Lukaku prima pagina dedicata a lui e il segna sempre lui quindi il vecchio coro che aveva come protagonista Maurizio Ganz Coppa Italia doppietta di Lukaku l'Inter stand del Cagliari 4 a 1 e vola ai quarti il Belga realizza il primo dopo 21 secondi e il terzo gol raddoppio di Borca Valero rosso-blu in rete con Oliva Ranocchia chiude il conto a fine gennaio la sfida di Nerazzurri con la vincente di Fiorentina Atalanta poi si presenta Kike Setién il tecnico del nuovo tecnico del Barcellona Vidal non è tramontata completamente la pista però chiaramente si prende ancora più tempo e l'Inter ormai non vuole rimanere col cerino in mano e sta lavorando su altri obiettivi conclusa l'operazione tra Inter e Roma Politano Spinazzola è fatta attaccante e difensore trasferiti a titolo definitivo scambio alla pari valutazione di 27-28 milioni ingaggi più alti per entrambi oggi le visite mediche Inter in attesa per Vidal Eriksen la carta Vecino il cileno del Barça deve capire il suo ruolo con il nuovo tecnico Setién l'uruguayano come contropartita ritorno in Italia oggi di Steven Zhang può far alzare la temperatura del mercato dell'Inter tappata la falla a sinistra c'è da completare il centrocampo scrive il Corriere dello Sport ieri Setién è stato presentato ufficialmente con Vidal che ha già dato la sua parola a Conte lotterà per raggiungerlo alla pienetina resta da capire se il club e l'allenatore lo lasceranno andare l'Inter non ha spento i riflettori su questa trattativa ma siccome sa che è complicata non la considera l'unica opzione i contatti con l'entourage di Eriksen vanno avanti per prenderlo a parametro zero la prossima estate ma anche per anticipare tutto in questa sessione di mercato l'operazione via della liberazione è giudicata ancora in una fase embrionale la dirigenza predica prudenza Giroud Caldo dopo l'addio di Politano in Inghilterra parlano di una differenza di due milioni e mezzo però vi abbiamo detto che è minima e anche minore rispetto a questo e poi Kumbu Lai Chong come vi avevamo detto Lukaku va di fretta gol dopo 21 secondi l'Inter vola facilmente nei quarti dove troverà Fiorentina o Atalanta doppietta del bomber nerazzurro 18 reti la stagione assegno anche Borca Valero Oliva e Ranocchia per Maran la quinta sconfitta di fila quarti in casa per Napoli e Inter che aspettano le rivali l'Inter ha conquistato la qualificazione nei quarti scrive così il core sport battendo nettamente a San Siro un Cagliari reduce da 4 sconfitte consecutive in campionato che adesso è davvero in crisi nonostante questo sesto posto che ha stupito tutti con cui si è chiuso il girone di andata come ha detto anche in Angolan adesso l'Inter il Cagliari scusate si deve ritrovare Moviola Kiffis e la Cava Romelu offside pieno di dubbi perché ne avrebbe segnato un terzo di gol Lukaku annullato per centimetri che anche dal VAR insomma poco chiara questa decisione l'Inter è il club migliore per vincere qui per questo Lukaku felice prima la squadra abbiamo giocato bene facendo le cose giuste io sono felice archiviata la Coppa ai nerazzurri ripartono da Lecce con una certezza granitica a forma di Lukaku poi Barella regala due assist Nandez ci prova le pagelle il Corriere dello Sport Andanovic Godin Skriniar Lazzaro e Sensi 6 così come i raghi 6 e mezzo Sanchez Esposito anche loro sufficienti 7 per Ranocchia l'ultima volta in campo il primo settembre ottima la chiusura su Nangolan non fa in tempo su Oliva 7 anche per Barella per una mezz'ora va un po' troppo sopra le righe forse sente la gara da ex un ritorno all'inizio poi comincia a girare innescare la doppia di Borca e confeziona il tris per Lukaku Brozovic 6 e mezzo 7 anche per Borca Valero che ormai anche si è si trova bene anche da mezz'ala 6 e mezzo per Di Marco sempre molto alto e così agevole i cambi di gioco che mettono in difficoltà il Cagliari si gioca al meglio la sua occasione anche se deve uscire poi per un problema muscolare 7 naturalmente per Conte 7 cambi rispetto all'Atalanta tra cui diversi elementi che non giocavano da tempo ma ottiene ottime risposte da tutti anche al di là del risultato finale poi 8 per Lukaku 17esimo e 18esimo gol stagionali con Sanchez che merita anche lui la sufficienza aspettando la condizione migliore andiamo alla Gazzetta dello Sport che naturalmente mette le trattative di mercato in prima pagina questo scambio definito tra Inter e Roma tra Politano e Spinazzola con Lukaku che poi segna sempre Lukaku anche sulla Gazzetta dello Sport Re di Coppe dopo i due gol in Champions arriva questa prima doppietta in Coppa Italia che vale i quarti di finale per l'Inter e poi scambio Spinazzola all'Inter Politano della Roma pronto il blitz per Ericsson ieri il danese è fischiato a Londra Murigno se se ne va sarà a testa alta e poi segna sempre Lukaku in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport Romelu trascina fa altri due gol il primo dopo 21 secondi sono nella squadra perfetta Conte sui prossimi acquisti non ci sono soldini ma le idee aspettiamo occasioni a buon mercato e poi Piontek in vetrina con 30 milioni parte in vendita anche Pachetà ha presto novità sul fronte milanista Lukaku Re di Coppa Romelu ne fa altri due l'Inter da spettacolo Cagliari 5k di fila poker nerazzurro il belga segna dopo 21 secondi fa il bis e sale a 18 gol stagionali nei quarti sfida Fiorentina o Atalanta tutto facile di Borca Valore la Nokia le altre due reti rosso-blu in crisi Di Marco da applausi ben 7 il voto sulla gazzetta dello sport Castro fuori condizione il migliore però è sempre anche qui naturalmente Lukaku 7 e mezzo 21 secondi per il primo inchino poi un'altra doppietta siamo a 18 gol e San Siro ormai si inchina a lui 6 per Andanovic Godin 6 e mezzo per la Nokia 6 Skriniar e Lazzaro poi 7 per Barella e Borca Valero Di Marco setta piede di qualità spesso gioca il pallone di prima e strappa gli applausi di Conte avesse qualche centimetro in più sarebbe lui il titolare poi 6 per Sanchez ed Esposito minuti che fanno curriculum un gioco in area che abbaglia San Siro esperienza buona per il futuro prossimo per il giovane talento dell'Inter e poi naturalmente 7 anche a Conte che gestisce bene le forze stringe i pugni ad ogni gol tiene alla Coppa Italia e lo dimostra l'Inter ha identità anche lontano dalla Serie A le parole di Lukaku essere in questo club la mia scelta perfetta ora qui voglio vincere il Belga segno in tutte e tre le competizioni giocate ha realizzato la quinta doppietta nera azzurro non contano i gol io gioco per aiutare la squadra le chiavi della gazzetta affetto per il ninja Di Marco coglie l'attimo e poi cararmato Lukaku anche se ci sono dubbi su quel micro offside e su un altro tocco di mani sul cross di Lazzaro tocco di Lico Giannis con mani abbastanza larghe su cui non è intervenuto il VAR e poi andiamo al mercato Conte non ci sono soldini ora affari a buon mercato Antonio le idee le abbiamo se ci sarà qualcosa da fare lo faremo se no continueremo in questo modo turnover vedete che i ragazzi si impegnano così fa piacere su Sanchez ancora bisogno di un po' di tempo per essere al top per Nengolan cori applausi a tutto San Siro e poi lo scambio è giusto Inter Spinazzola Politano alla Roma ora tutto su Eriksen oggi visite medica a fare da 25 milioni dialogo serrato col Tottenham aria di Blitz a Londra dalla Premier braccio di ferro col Chelsea per Giroud e Young comunque resta in gioco sullo sfondo per Carlo Laudisa scatto Eriksen la di Nerazzurro parla in generale ma il pensiero corre a Eriksen l'obiettivo numero uno dei prossimi giorni ieri nuovi contatti profiqui col suo entourage ormai la scelta del 27enne è chiara in Nerazzurro l'aspetta un contratto sino al 2024 da 7 milioni e mezza stagione più bonus con cui arriverà ai 10 di cui vi abbiamo sempre detto con il Tottenham che chiede ancora 20 milioni i vertici Nerazzurro ne hanno offerti 10 Martin Schotz rappresentante del giocatore in missione diplomatica per chiudere in fretta la partita a Milano c'è un'area distesa da un momento l'altro può arrivare l'ambasciata tanto attesa con le parole di Murigno e poi la situazione di Vessino che alla fine potrebbe con la sua partenza liberare il posto per un'altra operazione dopo lo scambio con la Roma spinazzola politano abbiamo già detto definito tutto poi trattative per l'estate Marotta incontra gli agenti di Kumbul resta in pole faccia a faccia anche con i procuratori di Amrabat ma si è parlato di Chong dello United queste le mosse invece per la prossima estate un Inter che non vuole farsi trovare impreparata su ogni situazione di mercato andiamo a leggere anche tutto sport con l'Inter scatenata in taglio alto nella prima pagina poi Juve il colpo è Chiellini Sarri riconfida Felice il recupero del suo capitano Inter scatenata missione compiuta 4 a 1 doppietta di Lukaku a segno dopo 21 secondi è fatta per lo scambio politano spinazzola Eriksen più vicino via libera per Giroud Conte vuole i quarti di coppa Lukaku e l'Inter sono extra large al Belga bastano 21 secondi per schiantare il Cagliari al quinto che ha poi in un mese in gol anche Borca e Ranocchia Lukaku per me è stato perfetto scegliere l'Inter le sue parole a fine partita lo scudetto io adesso penso a Lecce naturalmente il migliore delle pagelle anche su tutto sport 8 abbatte il Cagliari con una scintillante doppietta arriva a 18 stagionali intorno ai gol regala una prestazione da primo della classe confermandosi imprendibile per gli avversari nel pianeta calcistico del bel paese 7 per Barella Brozovic Borca Valero e Ranocchia 7 e mezzo per Conte alla sua Inter ormai basta inserire il pilota automatico per sbrigare un ottavo di Coppa Italia 6 e mezzo per Di Marco e Sanchez su Di Marco scrive tutto sport un millimetrico tocco di Lukaku gli toglie la gioia del gol poco male perché la sua prestazione è tanto convincente da far pensare che potesse essere utilizzato un po' più di una più una volta perso a Samoa poi Sanchez 6 e mezzo quando accarezza il pallone i tifosi nell'azzurro i fan Oh e se avesse fatto l'Arabona appena accennata a fine primo tempo sarebbe venuto giù lo stadio quando sarà il 100% ci sarà da divertirsi via libera Giroud Eriksen più vicino offerto Chong nonostante un turnover radicale l'Inter ha mostrato la stessa intensità e le geometrie perfette come quando in campo vanno i titolarissimi a dimostrazione che il lavoro del tecnico paga l'addio di Politano spalanca le porte al francese del Chelsea oggi la gente del danese torna a Milano Vidal aspetta Kike Setien vertice per Cumbulla piace Amrabat ma in pole è la Fiorentina e poi a sinistra Spinazzola Politano alla Roma ok allo scambio a titolo definitivo oggi le visite mediche con Politano che torna a casa con l'arrivo di Spinazzola che lascia la Roma dopo aver giocato 16 partite tra la Serie A Europa League segnando un gol Alvosberger Conte sistema alla fascia sinistra viste le difficoltà per arrivare a Ashley Young Fonseca abbraccia invece Politano che è passato il giro di un'estate da indispensabile per spallette attaccante di scorta per il tecnico Salentino che lo ha impiegato appena per 253 minuti in campionato per l'ex Sassuolo un ritorno a casa visto che era stato scoperto proprio da la Roma e da Bruno Conti quindi in bocca al lupo a Matteo Politano con l'Inter che cerca squadra anche per Radu tante novità come avete visto e sentito io vi ringrazio sempre per il vostro seguito con grande calore i vostri messaggi per fortuna si è risolto quel problema che vi impediva di lasciare commenti commenti però mi raccomando perché ci sono tante novità ancora in arrivo e saremo sempre qui Sport Mediaset la nostra app adesso anche su Youtube per essere sempre sintonizzati con tutte le ultime novità a mercato ma non solo e aspettando quanto accadrà sul fronte Ericsson però attenzione al Paris Saint Germain non c'è tempo da perdere come ama ripetere Antonio Conte e quindi mi raccomando anche voi sempre sintonizzati grazie a tutti